Leonardo Pavoletti Ringraziamo il Cagliari perché ad aver permesso al giocatore di essere qui questa sera per questo importante premio e chiamerei per consegnare il premio il responsabile della comunicazione della Lega Serie B, Alberto Monguidi Giusto, giusto, e allora siccome il Presidente Barata per impegno non poteva essere qui, vediamo il suo saluto Buonasera Alberto E tra l'altro ci devi dare un annuncio, giusto? Il saluto riva di Vissimi a Leonardo Pavoletti che quest'anno si è giudicato il premio intitolato a Pier Mario Morosini Buonasera a tutti, buon appetito perché mentre si mangia si continua la premazione giustamente E' bello, è bello perché a 35 anni inizia a ricevere i primi premi personali Quindi non so se sono stato troppo scarso prima o sono migliorato in vecchi anni Però lo accetto, sono felice così Ho dovuto fare un passo indietro perché tornare in Serie B dopo tanti anni non è stato facile Però Cagliari meritava questo, meritava di impegnarsi per ritornare in un campionato dove compete, dove li merita E quindi bastano a volte, non contano quanti gol fai ma conta il peso del gol E quindi quest'anno ho capito il vero significato di questa frase Quindi con un gol mi sono rifatto di un anno brutto come quello della retrocessione E tra parentesi, per chi ha qualche anno in più è anche un modo per dare un esempio molto bello a chi è giovane e sta arrivando Ma infatti mi fa molto piacere e questo devo ringraziare i miei genitori Perché senza di loro l'educazione, il senso di sportività, la lealtà sportiva non lo impari E quindi grazie a loro sono riuscito col tempo perché anche questa cosa si allena Non è una cosa, giorno dopo giorno come ci alleniamo ma ci alleniamo anche a essere uomini E quindi questo è il premio che forse vi fa molto più piacere Perché essere riconosciuto come uomo è meglio che sportivo Poi magari se fossi stato più bravo come calciatore avrei detto un'altra cosa Però va bene, mi prendo come uomo Lo sei stato assolutamente Vi ringrazio del premio, vi ringrazio della votazione Alberto prego Rizieni questo premio allora, meritatissimo Facciamo una bella foto Facciamo ancora i complimenti a Leonardo Paboletti E ringraziamo il taglio che ha permesso Leonardo di essere qui Prego Questo premio si chiama per Mario Morosini Che quel tragico giorno indossava la maglia della mia città Quindi per me è doppiamente un onore ricevere questo premio E soprattutto vorrei dire che per Mario e Davide Astori vivranno sempre nei nostri cuori E non saranno mai dimenticati Quindi questa serata secondo me va dedicata anche a loro Che sono qui con noi a festeggiare questo premio Grazie Grazie a te Leonardo per le belle parole Complimenti per il premio Grazie a Alberto Monguidi